In Sardegna l'epidemia di lingua blu sta colpendo duramente gli allevamenti ovini, con centinaia di casi confermati e molti altri ancora in fase di accertamento. Coldiretti ha lanciato l'allarme, segnalando una diffusione che si estende da nord a sud e dalla costa orientale a quella occidentale dell'isola. L'associazione denuncia perdite di animali e danni economici ingenti per gli allevatori, accusando anche la regione di non aver agito tempestivamente con la somministrazione dei vaccini e il supporto agli allevatori per l'acquisto degli antiparassitari. Le zone più colpite comprendono il Cagliaritano, il Sulcils, l'Oristanese, la provincia di Nura e la Gallura, dove il virus si sta espandendo rapidamente. In particolare Coldiretti sottolinea la situazione critica nel Campidano, Sarrabus e Gerrei e nell'area tra Ghilarsa e Cuglieri. La Gallura, oltre a essere pesantemente colpita negli allevamenti ovini, ha visto crisi anche nel settore bovino da carne a causa del blocco alla movimentazione. Nonostante le sollecitazioni di Coldiretti per un intervento immediato, la situazione rimane ferma, con gravi conseguenze per l'intero settore agricolo sardo.